Come si può riparare un pianeta rotto? L'unica soluzione è cancellare tutto e ricominciare dal principio. Avete fatto infuriare tutti i Krieto. Loro hanno fatto infuriare me. Lui teme le scelte operate dagli umani sul pianeta Terra. È il momento più cruciale della storia del pianeta. Il mio volere è molto più potente della coscienza del tuo intero pianeta. Prima il controllo e poi l'annientamento. Gli umani sono estremamente vulnerabili. Hanno un nuovo dio, il denaro. Il mio dio non è alieno e la libertà del mondo è venuta a te. Perché hai scelto me? Tu sai cos'è quella specie di enterprise in miniature? Puoi spiegarmi che cazzo sta succedendo? Contiene la verità sul principio di ogni esistenza dal tempo dei tempi. Devo consegnarla a Lady Ares. La tua fiducia nell'umanità è decisamente mal riposta. Devi finire quello che hai cominciato. Non avete più tempo. Quello che conta è il destino del nostro universo. La posta in gioco è troppo alta. Mettiti alle mie spalle e non muoverti. Tu non puoi competere con un dio. Sei pronto a salvare il mondo e a diventare un eroe?